La squadra è formata da giovani ragazzi che ogni giorno provano, sperimentano con prodotti sempre nuovi, all'avanguardia, sia comunque le attrezzature e prodotti nuovi. In questo caso, vedete, facciamo l'utainment, perché cos'è la fusione di education, quindi formazione, e intrattenment, cioè intrattenimento. ApsiChefLab è una famiglia, sempre pronti a nuove esperienze e nuove idee. ApsiChefLab, appunto lo dice la parola, è un laboratorio, un laboratorio di idee, un laboratorio di nuove tecniche e nuove innovazioni. Ci piace sperimentare, soprattutto con diversi prodotti e diverse tecniche di cucina. ApsiChefLab. ApsiChefLab. ApsiChefLab.